cari spettatori del cinevirus un film da raccontare e soprattutto da immaginare oggi vorrei raccontarvi una grande storia e quale storia più grande di quella di casablanca 1942 hollywood regia di michael cortiz c'è tutto in casablanca c'è l'amore la potenza dei sentimenti l'epica dei sentimenti c'è la guerra c'è la fatalità c'è il destino c'è quel momento che solo il cinema un certo cinema ha saputo rappresentare quando ti trovi di fronte ad una scelta e devi farla e devi scegliere dalla parte giusta ci sono due interpreti indimenticabili anthry bogart e ingrid bergman e una canzone 1942 marocco i francesi di bichy collaborazionisti con i tedeschi sono gli anni della seconda guerra mondiale rick blaine è un espatriato americano cinico disilluso ha vissuto nel passato amori ha anche combattuto nella guerra civile spagnola dalla parte dei repubblicani ma oggi è chiuso nel suo bozzolo e indisponibile ad aprirsi a qualunque causa ma la sua vita viene attraversata dal ritorno di una donna un amore che forse è stato l'amore della sua vita lisa lund ingrid bergman ma in mezzo c'è il marito di lei perché lei nel frattempo si è sposata victor laszlo interpretato da paul heraid il rappresentante della resistenza cecoslovacca sono venuti a casablanca per prendere un aereo se lo troveranno e partire per la libertà e verso gli stati uniti eric a un certo punto si troverà di fronte al dilemma la fiamma si è riaccesa continuare quindi a inseguire quell'amore che è stato così potente nella sua vita oppure aiutare la causa aiutare il resistente e sua moglie a fuggire dal marocco questo è il dilemma di casablanca e poi a incorniciare tutto a derare un'atmosfera irripetibile una canzone a stein goes by anthry bogart è appoggiato al bancone del suo locale un bicchiere di whisky e dice a duley wilson il pianista plate gain sam suonala ancora sam paramparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparamparampar